Abbiamo programmato in questo luogo l'apertura della Porta Santa, la celebrazione del giubileo degli ammalati, del mondo della sofferenza che comprende gli ammalati ma anche tutti coloro che gli assistono e che è compito della Chiesa intera. Quindi una grande convocazione la faremo per domenica 17 aprile con una celebrazione all'aperto davanti all'ingresso principale dell'ospedale e ci sarà la possibilità appunto per i malati di passare attraverso la Porta Santa che sarà il cancello dell'ospedale. Ci auguriamo che sia una celebrazione in cui coparticipa la cittadinanza intera perché è qualcosa che tocca ogni comunità cristiana e la Chiesa nel suo insieme. Abbiamo scelto questa data soltanto perché ci auguriamo che sia bel tempo e ci dia possibilità di celebrare all'aperto.